e ciao a tutti amici sono franco versa sono le nove di sera sono bello stanco perché sto facendo delle giornate in fiera per fare degli streaming ma sono qui con voi non perdete questo tutorial dove andremo a realizzare un effetto cartoon da applicare le nostre riprese e infine vi farò vedere anche un trucco per inserire questo effetto su più clip contemporaneamente benissimo quindi prendiamo una bellissima ripresa io ho preso questi coniglietti e andiamo in fusion ovviamente per gli abbonati ci sarà già il setting pronto allora sganciate questo media in che non deve andare diretto perché perché come al solito noi non sappiamo la risoluzione del media in potrebbe essere come nel nostro caso full hd o potrebbe essere 4k ma noi vogliamo che sulla nostra timeline sia sempre corretto quindi prendiamo un segnale di background avete visto da qua trascinate giù background e lo colleghiamo come vi ho sempre insegnato nel media out in questa maniera quando collegheremo giù questo media in lo ritroveremo dopo l'elaborazione con la stessa risoluzione altrimenti se vogliamo essere sicuri inseriamo anche un bel resize così questo porterà sicuramente alla risoluzione 1920x1080 come vedete e così avremo anche questa ripresa in ingresso adattata alla nostra timeline bene adesso invece partiamo proprio con la programmazione dei nodi per andare a effettuare l'effetto che si compone e in due linee una che va a prelevare i bordi e poi viene mescolata con quella che va a posterizzare l'immagine ma vedrete che bel risultato quindi prima di tutto prepariamo la linea che va a posterizzare il file posterizzare per chi non conosce questo termine è un effetto in cui l'immagine viene compressa riducendo il livello dei numeri di colori e per questo sembra più fumettistica perché appunto vengono ridotti i numeri di colori prima di inserire il nodo del che fa questo effetto andiamo a inserire un brand in contrast ma lo troviamo anche qua è questo qui quindi lo tiriamo giù e ci servirà perché regolando il gain lift gamma eccetera e potremo ottenere risultati diversi quindi poi aprite la f library cercate l'effetto posterize posterizz lo trovate sotto template comunque basta scriverlo sulla lente di ingrandimento sulla cartella principale per trovarlo quindi lo trasciniamo giù cosa fa questo effetto se andiamo a vedere vedete che fa proprio questa campionatura qui dove vengono completamente ridotti i colori e questo si può decidere in base a questi step che facciamo come vedete posso andare a prendere più passaggi sui colori quindi più o meno colori e questo vedrete che dipende anche dal brightness perché cambiando vedete che possiamo andare a scurire aree eccetera e quindi ottenere effetti diversi sulla posterizzazione poi abbiamo un softness che va a mescolare ancora di più le zone perché togliendolo ecco vedete questa è la posterizzazione normale del mio segnale vedete come vado a prendere e a comprimere i colori quindi avere solo aree di colori determinate aggiungendo il softness andrò a ammorbidire queste aree e con color mix posso mixare per ottenere anche un effetto ancora più intenso dei colori bene e poi come detto su brightness ho anche la saturazione quindi vedete passo da un bianco e nero quindi un'immagine posterizzata un bianco e nero a un'immagine anche molto satura proseguiamo inserendo un ulteriore brand and contrast anche dopo perché anche da qua potremo come vedete andare a scurire schiarire l'immagine che abbiamo realizzato un attimo prima dopo di questa andiamo aggiungere un merge questo merge ci servirà e per ritornare giù sulla linea e finalmente chiudere il nostro effetto quindi lo possiamo già tirare per vedere il nostro effetto in uscita eccolo qua io ho trascinato il media out qui io ho premo due indifferente la stessa maniera per visualizzare qualcosa nel viewer e questa come dicevo è la prima linea di posterizzazione del nostro effetto adesso qua sopra creiamo una seconda linea che quella che andrà a invece prelevare i bordi in maniera che faremo uno stile di come fosse tracciato un contorno del nostro disegno quindi qua sopra clicchiamo a vuoto e andiamo a cercare un edge detect questo nodo lo sappiamo va a prelevare i contorni del della nostra immagine quindi se noi passiamo sempre dal media in all edge detect proviamo a premere uno per visualizzarlo vedete che possiamo andare a prelevare i contorni vedete che lo posso posso andare a scegliere questo è il modo rgb dove del contorno prelevato abbiamo anche i colori se lo spostiamo su grayscale vedete che abbiamo solo il contorno bianco eccolo qua adesso andiamo a inserire un luma care a cosa serve questo luma care ci servirà a togliere il nero e quindi mantenere solo il canale alfa da qua possiamo andare a aggiustare come vedete per per andare a prelevare meglio il nostro segnale e ovviamente sull'edge detect è importante come vedete andare a prelevare più segnale possibile eccolo qua spostando ovviamente tutti i nostri controlli poi andremo a inserire un invert color invert color in maniera da rovesciare i colori e avere un nero già questo sarebbe un effetto carino da solo perché siamo andati a prelevare il contorno del nostro filmato vedete che già sembra disegnato e poi regolando l'edge detect il luma key possiamo andare a tracciarlo meglio qui alla fine possiamo mettere di nuovo un bright and contrast il brightness adesso vediamo ci aiuta ovviamente a diminuire la luminosità cosa succede adesso come vedete va a togliere il bianco allora lo andiamo a a collegare al merge e vediamo che stiamo sommando attraverso il merge i due segnali e abbassando la luminosità otterremo che vengono fuori da sotto i colori quindi abbiamo il bordo che sarà invertito e nero eccolo qui più i colori sottostanti se vogliamo avere un controllo ulteriore possiamo inserire prima dell'edge detect un altro bright and contrast con il quale regolando questi livelli possiamo andare a aiutare l'edge detect a selezionare ancora meglio dei contorni che noi andiamo a selezionare diciamo perché dando brand in contrast forniamo un segnale come vedete che adesso su all'uscita il brand in contrast alterato e quindi lui andrà a prendere contorni più netti quindi con legge detect vedete possiamo andare a prendere questi contorni di questa figura che stiamo andando a a modificare addirittura possiamo passare già un'immagine in bianco e nero a legge detect così non avrà il problema di rilevare colori ma solo proprio i contorni come vedete a questo punto andando agire sulla posterizzazione sul passaggio posterizzazione il mix dei colori e tutto ciò che abbiamo creato andremo a creare il nostro effetto in uscita se andiamo di qua vediamo che poi il nostro effetto sarà ovviamente in movimento bene però abbiamo realizzato questo effetto che praticamente è su una clip ma come facciamo se noi volessimo adesso applicare questo effetto a più clip cioè adesso io ne ho un'altra dovrei andare a copiarmi questi nodi e incollarli su questi perché non possiamo come non possiamo incollare i nodi di fusion di qua quindi dovremmo per forza proprio entrare qui copiarci i nodi andare di là entrare in fusion incollare i nodi allora possiamo fare un altro sistema adesso copiamo questi nodi qui e invece di farlo direttamente sul nostro filmato quindi adesso vado a prendere il filmato come era pulito per farvi vedere qual è mi piace dire trucco ma il metodo che può tornarci utilissimo è questo qui quello come vedete di andare prende un adjustment clip quindi si trova sotto effetti che primo effetto che troviamo sotto effetti adjustment clip la trasciniamo su tutto e i nodi li andiamo a programmare qui quindi entriamo in fusion e ricreiamo le stesse cose come vedete se entriamo in fusion con la adjustment segna un media ma il media non è il nostro è quello che rileva sotto tant'è che se andiamo avanti vediamo anche la seconda clip quindi rileva il media che è sotto alla traccia in timeline in realtà allora incolliamo i nostri nodi andiamo a prendere i due nodi principali li sganciamo il media out lo ricolleghiamo all'uscita e media in come prima al ai nostri due ingressi ingressi che era di qua e qui alle due linee e come vedete abbiamo ricostruito l'effetto ma torniamo sulla edit e guardiamo cosa succede e vedete che ora l'effetto è sia sui conigli che sulla tutta la linea che segue dopo di questa clip qui guardate cosa succede se io trascino fuori vedete che non è più soggetta all'effetto l'unico problema è potrebbe essere che questo effetto è corretto che sia tarato a seconda della clip quindi se le clip sono simili avremo l'effetto ma se noi vogliamo modificare esempio sulle ballerine l'effetto per andare meglio a ritagliare a inserirlo in questo contesto dovremo tagliare qui andare in questa parte rientrare in fusion e tarare questo effetto sulla sulla clip nostra quindi andare in edge detect andare a fare il threshold vedete qua dell'ombra corretto e come vediamo avremo due effetti aggiustati separatamente sempre con l'adjustment clip quindi in questo con questo sistema possiamo anche togliere l'effetto possiamo aggiungere anche delle disolvenze alla jasmine e quindi fare che l'effetto entra solo in questo punto vediamo e vedete come l'effetto appare in disolvenza e anche se ne va ovviamente adesso deve fare il calcolo stessa cosa sul coniglio se vogliamo far sì che prima non ci sia l'effetto e poi appaia l'effetto regolato bene viene fuori veramente una cosa simpatica e ovviamente da qua è migliorabile o si possono applicare anche altri effetti ad esempio come se io voglio fare un viraggio con la color e posso virare come vedete tutto il mio segnale per dargli ancora più un aspetto cartoon con una color particolare bene io spero che questo super super tutorial vi sia piaciuto dopo da questo potrete crearne magari una macro e da richiamare con i comandi da inspector e quindi settare il vostro effetto oppure salvare semplicemente i nodi come facciamo di solito andiamo a selezionare tutto clicchiamo tasto sinistro save as e assegniamo un nome quindi inserite un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci rivediamo prossimamente ciao e buonanotte